ragazzi buona giornata buon giovedì buon giovedì 16 giugno da corridori in alto con mickey crow che vi presenta lo show fornite di oggi andiamo subito a vederlo nel dettaglio e cominciamo cominciamo con questa bellissima skin comandante scarlato ragazzi eccola qua 800 vb guardatela io ce l'ho molto molto bella e la skin maschile elite cremisy ragazzi sempre 800 vb del set fuoco notturno guardate anche lui season 2 capitolo 2 ed ecco molto bella l'altra skin che io ho del set corridore metropolitano marius ragazzi guardatelo season 6 capitolo 2 molto molto bella 800 vb ed ora si passa ad assassina atletica ragazzi 1200 vb che nei suoi vari stili predefinito niente cappello senza occhiali senza maschera e no a tutto eccola qua the set padroni del mondo eh ragazzi 1200 vb a parte il suo strumento di raccolta pomponi della distruzione 500 vb ed ecco l'ince ragazzi 2000 vb abbinata al dorso decorativo secondo sguardo the set visioni oscure guardate molto molto bella questa skin anche io questa ce l'ho è molto 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 bella a parte il suo strumento di raccolta falce spettorale ragazzi sentito il rumore 800 vb molto molto bello questo piccolo e a parte onda mortale la copertura da 500 vb ed ora si passa ad artigliere brutto 800 vb del set squadra brutto season 3 ed ecco una serie di emot pochi 500 vb molto carina twist 500 vb e posa sul bastone 200 vb ed ora passiamo ad un bundle che c'è già da qualche giorno se è goleada del calcio bundle playmaker star 4 skin femminile una ce l'ho già quindi per me viene 1300 vb ve le faccio vedere in maniera veloce finalizzatrice fino corsettrice clinica derivatrice dinamica e regista composto così il bando maschile campioni sul campo 2500 vb a queste 4 skin maestro centrocampo superattaccante spazzino convinto e minaccia aerea i vari piccoli guardate le vv0 e tacchetto elite tacchetto elite a 500 vb a e v0 a 800 vb a goleada del deltaplano 500 vb a ed ecco una serie di emot rimbalzi 500 vb a e cartellino rosso 200 vb a ed ecco tutte le le emot le coperture i spray gratuiti guardate tutti gratis ed ecco che rimane ancora da qualche giorno il bundle dune 2000 vb a costi 5 getti 2 skin 2 dossier decorativi e la schermata di caricamento e infine i pacchetti che rimangono ancora da me da sciupare futuro tecnologico 17 euro 99 match up hop a 15 euro 99 pacchetto leggende lava sempre a 15 euro 99 e leggende alla mente di forma a 19 euro 99 ed infine leggende estive a 15 euro 99 vi ricordo per supportare gratuitamente il canale se volete supportarmi basta essere il mio codice creatore micchi crocosi come lo vedete tutto attaccato maiuscolo m i k y cr o tutto attaccato e da rimettere ogni 14 giorni e vi ricordo anche super sticker e super chat da 0 99 centitemi in coria ringrazio tutti quanti l'ultimo in ordine di tempo Claudio Dilma vi nomino sempre tutti ragazzi vi saluto tutto il mio gruppo whatsapp cn-former-class il mio moderatore i miei 1431 iscritti vi auguro una buona giornata da corrido allenato Michi Crocchi vi vuole un mondo di bene ciao GG hey guys ciao baldo